Il calendario del torneo di Serie A targato stagione 1986-87 alla sesta giornata proponeva l'incrocio tra Empoli e Milan. Una gara che venne disputata sul neutro di Pistoia a causa dell'indisponibilità dello stadio Castellani per dei lavori di ristrutturazione. I rossoneri di Nils Lidom condussero una sfida a senso unico contro i toscani di Salvemini e lo 0-3 finale fu firmato da Daniele Massaro, Franco Baresi su calcio di rigore e Pietro Paolo Virdis che al novantesimo minuto inventò un gol bellissimo partendo dalla sua metà campo saltando in slalom un paio di empolesi per poi superare il portiere Drago in uscita con un pallonetto. La gran galoppata del bomber chiuse il match e fu contornata dall'ovazione di oltre 10.000 milanisti giunti in quel di Pistoia per seguire la squadra. Grazie.